Il prodotto di classe è un bellissimo progetto dell'Istituto DF è un progetto che portiamo avanti con i ragazzi del quarto anno, duale ragazzi che fanno tre giorni a scuola e tre giorni al lavoro un progetto con la ditta De Longhi, col marchio De Longhi e con le pentole Ballarini un grande progetto dove i ragazzi sono chiamati a formulare un ricettario che poi andrà ad accompagnare questi prodotti quando andranno sul mercato nei grandi supermercati, i clienti si troveranno il ricettario fatto dai nostri ragazzi Questo è un progetto interessante perché con questa occasione riusciamo a insegnare ai ragazzi come si fa studio e ricerca Noi abbiamo visto nei vari anni di esperienza che insegniamo nelle scuole alberghiere tutti i ristoranti che non fanno studio e ricerca e sviluppo tendono ad avere prima o poi un ciclo che finisce Quindi noi in questa occasione abbiamo le aziende che ci danno i loro materiali, i loro prodotti e attraverso loro riusciamo a sviluppare nuove tecnologie, sviluppare nuove ricette, nuovi concetti di cucina e i ragazzi imparano come fare questo difficile procedimento e lavoro Siamo fortunati che abbiamo delle aziende interessanti e anche delle associazioni come la Suoca e Treviso che ci supporta con i loro chef, con i loro grandi professionisti per fare comunque formazione e per fare degli eventi Prodotti di classe non è solo un video ricettario ma in questo progetto vogliamo anche valorizzare la sala perché fino adesso la sala è sempre stata un po' sottovalutata Innanzitutto inizio con il dire che un ristorante cioè è proprio bello quando il cameriere lo accoglie, cioè lo coccola proprio Come vedete alle mie spalle Stiamo preparando adesso la sala Stiamo mettendo delle tovaglie nelle planze e nei buffet perché oggi abbiamo degli ospiti e faremo il servizio a buffet e dopodiché si accomoderanno sui tavoli per proseguire con il mangiare e per consumare le bevande Grazie mille! Grazie a tutti.